L'emergenza Covid-19 sta cambiando le modalità di diagnosi e cura di diverse patologie. Quelle oculari, per esempio, se trascurate, possono causare la cecità e le nuove tecnologie, pertanto, vengono in aiuto di specialisti e pazienti, come ha spiegato il professore Leonardo Mastropasqua, che è direttore della Clinica Oftalmologica dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, e del CNAT, il Centro di Eccellenza in Oftalmologia. In diretta su Reteotto, nel corso della trasmissione Pronto Medicina Facile, curata e condotta da Paolo Castignani, ha ribadito la necessità di recuperare le tantissime visite di controllo e gli interventi chirurgici che sono saltati dall'inizio della pandemia per la paura dei pazienti di contrarre il virus. Mastropasqua ha risposto alle numerose domande rivolte dai telespettatori, sia telefonicamente che tramite e-mail, e ha spiegato l'importanza della telemedicina. Riusciamo a far fare, per esempio per la retinopatia diabetica, delle foto del fondo dell'occhio nei centri diabetici, vengono mandate a noi, noi le esaminiamo e diciamo il paziente può stare tranquillo, oppure il paziente ha bisogno di venire, quindi camminano le immagini e non camminano le persone. Io devo dare atto che questo tipo di lavoro è stato ben accettato dalla nostra regione, e della nostra ASR e stiamo lavorando proprio sulla telemedicina. Si fa la foto del centro diabetico, lo mandano a noi, noi la vediamo e diciamo stai tranquillo, vai avanti e torna in diritto, sia da noi che a Pescara non c'è problema. Questo per i pazienti diabetici? E anche per la maculopatia, per la maculopatia ovviamente dicono, e questo è l'implemento che stiamo facendo, perché per adesso siamo paesi con il diabete, ma è chiaro che quando lo metti nei centri diabetici dei distretti, quando va su un territorio, perché il territorio è fondamentale, c'è gente capacissima ma bisogna dare gli strumenti, questo è uno strumento che dato sul territorio consente agli oculisti territoriali o ai medici territoriali di poter colloquiare con le hub, quindi con i punti di riferimento di alta tecnologia e quindi far sì che il paziente abbia il massimo beneficio. Cosa è importante è la riabilitazione, nell'ipovisione, nei pazienti che non vedono bene, che hanno le maculopatie avanzate e fanno dei processi riabilitativi, noi adesso attraverso la telemedicina riusciamo a farla a casa questo, quindi gli diamo un iPad e invece di venire in ospedale a fare questi esercizi, dall'ospedale, perché noi abbiamo il centro di riabilitazione nazionale qui da noi, riesce praticamente a riattivare questi pazienti e farli allenare a casa. Diagnosi e terapia. Questo periodo mi sembra un'opportunità. Ma anche dopo, ormai questo periodo sarà uno spunto per il futuro, perché adesso poi una volta che noi abbiamo provato queste cose qui non le abbandoniamo più, a prescindere dal Covid.